La bella Maria Butina sarebbe stata arrestata a Washington, capitale degli Stati Uniti d'America. E l'arresto di questa magnifica spia russa, pensate che non può essere casuale. Infatti la donna di 29 anni d'età sarebbe stata arrestata a Washington proprio alla vigilia, quindi al giorno prima del summit tra il presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin, presidente della Russia. L'accusa sarebbe stata elevata dal Dipartimento della Giustizia e sarebbe quella di aver tentato di creare dei canali segreti tra la leadership della Russia e gli uomini politici degli Stati Uniti d'America. In particolare si va a leggere che Maria Butina avrebbe sviluppato dei rapporti con delle personalità americane e si sarebbe introdotta in delle organizzazioni che avrebbero influenza sulla politica statunitense. Ha lo scopo di fare avanzare addirittura quelli che sono gli interessi della federazione russa. Sarebbe in buona sostanza tradotto in parole povere una sorta di talpa che va in favore di Vladimir Putin. O dunque una delle pedine del cosiddetto Russia Gate. L'incriminazione non proverrebbe dall'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller ma da quella che era sicurezza nazionale proprio del Dipartimento della Giustizia americana. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto del presente video. Dunque ci sarebbe stato questo arresto di questa bellissima ragazza di 29 anni d'età di nazionalità russa. Un saluto, iscrivetevi, questo video non vuole rendere la privacy di Maria Butina né della famiglia Butina ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto. Grazie, un cordiale saluto a voi tutti.